Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale. Vi siete mai chiesti come si realizza uno sfondo effetto liquido come questi che vi sto mostrando? Vediamolo insieme. Apriamo il nostro Photoshop ed apriamo un nuovo livello base bianco. Duplichiamo il livello base e lo rinominiamo per esempio come livello colore. A questo punto scegliamo lo strumento pennello, scegliamo i colori che vogliamo utilizzare, ne regoliamo dimensione e durezza ed iniziamo a pennellare in modo casuale, avendo cura di toccare con il pennello i bordi del nostro livello. Scegliamo a questo punto lo strumento fluidifica dal menu filtro. Regoliamo l'ampiezza del cursore, ed iniziamo a deformare le nostre pennellate, come se fosse un liquido, in modo casuale. Tra una passata e l'altra regoliamo l'ampiezza del cursore. Vi consiglio di rimpicciolirla per ottenere delle punte più sottili tra le pennellate fluidificate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A questo punto possiamo applicare qualsiasi cosa sul nostro sfondo colorato, per esempio dei riflessi di luce dal menu filtro e del testo con bagliore esterno per darne risalto. Grazie a tutti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. A presto!